Ciao, 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 piacere, bellissimo, complimenti davvero a un locale meraviglioso, birretta, grazie, sono cinque, la birra, ma è su quello che suona, la birra si paga, cinque, la birra si paga, te li do, un attimo che dovrei averli giusti, ecco qua, boh, e faccio le prove, grazie, bello, oggi ci siamo rivisti, oggi ci siamo rivisti, per constatare che la rabbia giovanile si è assoppita nei vent'anni, eppure si manifesta in un grido di protesta al barista. Aggiungi un po' di vodka, in questo cazzo di bicchiere c'è solo dell'acqua tonica, io non so un hipster, quindi c'è ne da urecare, io devo scordare che resterò senza pensione, fammi vero, e pensa che a casa, invece di scopare, abbiamo solo parlato di storie finite male, e di come fu commovente, quel funerale, al mio funerale vorrei, non essere invitato, esser fedele a me stesso, rimanendo, un imbucato, e gridare al camposanto, spaventando le persone, quest'uomo è stato un genio, è stato un mago, nel pallone. E loro son pagati, per metterci paura, e noi non siamo pagati, però dobbiamo averla, anestetizzati, nel contenerla. Se segui la partita, rischi di impazzire. E allora forse pazzo, io lo sono già. Il bulgaro è sensibile e l'allenatore spera Io mi sono infuocato, ci vediamo, ti saluto Io mi sono infuocato, ci vediamo, ti saluto Io mi sono infuocato, ci vediamo, ci vediamo E' piaciuta? Tutta bene? Letto Ma qua? Ci hanno dormito tutti, non ha detto niente a nessuno Buonanotte, grazie Infatti anche io non figuro la tv non è La tv funziona? Non mi ha? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti